Nel Salone Colbe della Noce, parrocchia Sacro Cuore e Palermo, durante la preghiera di intercessione che ha luogo dopo la messa per gli infermi, sono stati registrati alcuni canti. Riportiamo il lunghissimo canto del celebrante, un'esortazione di Gesù di notevole forza che accompagnato in parte dell'assemblea è intercalato più spesso da un altro coro di voci e di molti strumenti musicali. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.